se non mi sciolgo col caldo è una cosa grande ciao a tutti ciao bellezze ben ritrovate qui sul mio canale ho un caldo terribile perché ho spento l'aria condizionata per questa camera cioè nel senso non faccio entrare il resto della casa c'è un fresco buono però qui si canta un po però resistiamo resistiamo ho deciso di farvi un po di shopping nei cassetti miai collegato a che cosa ai prodotti che io uso in questo periodo per la mia per il mio make up perché fa caldo non c'è voglia di tanti e tante cose addosso di tanti prodotti infatti ora mi vedete truccata o un make up diciamo un po particolare sulle labbra però non è un granché sugli occhi indosso una matita dalla chicco di naci di quelle long lasting ve le farò poi vedere che io li uso molto spesso in estate mi trovo benissimo sopra sopra di di che ho messo con col pennello un ombretto preso da una palette di nix la se non ricordo male la metal la cosmic metals questa qui quindi mi piace molto usarla di estate perché è una paletta una palette passepartout una palette che si riesce a giocare coi colori e sono belli intensi luminosi quindi per dare più luminosità a quella matita e anche per fissarla con tutto che è la long lasting ho usato questo ombretto che un color pescato così comunque io non faccio i trucchi sugli occhi molto sofisticati molto diciamo pesanti perché ragazzi si schianta si ciocca da caldo e trucco si può anche sciogliere preferisco e predilego di più i prodotti waterproof d'estate o parecchie matite waterproof che le uso di meno utilizzo le polveri semmai per soltanto per fissare i prodotti in crema o i prodotti waterproof per intensificare ovviamente il colore resto non vedrete tante cose sul viso che cosa uso molto in estate uso molto gli eyeliner colorati ora vi farò vedere qualcosa per quello che ho detto facciamo shopping nei cassetti miei e per questo trucco qua per le labbra ho utilizzato una matita di kiko che credo che ce l'ho da qualche anetto quelle matite non so se si trovano ancora questa un finish line a me piace molto queste matite qua di kiko io 02 che è un rosso sono quelle che si gira e esce fuori no anche altre anche in color nude sopra di che non ho usato per contornare le labbra matita contorno labbra ma sopra di che ho aggiunto un pochino di questo top coat di lotti landon che è un lip foil quindi è perfetto per creare questo diciamo effetto sbrillucicchio un po' luccicante che va benissimo specialmente se uscita la sera io l'ho messo adesso giusto per darvi anche un'idea nel trucco mar trucco è un trucco da giorno quindi oggi non ho indossato questo rossetto cioè quel battito nel lima ho indossato un rossettino se lo trovo adesso ve lo faccio vedere un rossettino a lunga durata di golden rose che lo comprai sul sul pink panda se non ricordo male credo di sì e questo qua quindi questo color tra un nude pescato così diciamo che un è un liquid matt lipstick long stay kiss proof non trasferibile è la cosa che mi fa piacere questo qua ha anche una nutrizione quindi contiene anche la vitamina e e vi giuro quindi ho avuto questo colore per il giorno vi giuro che dove lo mettete lista cioè nel senso che veramente a lunga durata non si toglie io l'ho tolto poi con un prodotto perché ho voluto mettere questo per girarvi il video e per dare un esempio ovviamente avrei potuto calcolate che avrei potuto anche cambiare anche il trucco che ho da giorno in un trucco da sera ma ho detto vabbè importante averci qualcosa sul viso perché di solito mi vedete quasi quasi sempre senza trucco ok che cosa uso d'estate ora mi consentite di bere un goccio d'acqua che l'acqua me lo sono portata preferisco bella dalla bottiglia perché io ho bottigliette sparse così fresche partendo partendo dalla dalla base o due ansia ne avrei tanti però quando non mi devo quando mi devo truccare per mezza giornata che esco per qualche ora e non mi serve un trucco che duri troppo a lunga durata come preme viso utilizzo questo qua perché io adesso sapete che ho la pelle mista grassa quindi mi serve quelli che stoppano la lucidità della pelle che mi fa una base quasi opaca che non esiste mai perché tanto se vuote stra stra riesce perché non esiste nessuna barriera che lo può fermare perché se ti viene da da dentro non hai niente da fare poi se sudi è un'altra cosa o mi sta colando pure il naso anno scorso scoprì questo diciamo questo primer della freedom professional landon pro studio il contro il base anti shine lotion che vi giuro mi trovai bene e mi trovo tuttora bene lo uso non ho problematiche vi giuro che non mi aspettavo che fosse un prodotto così buono è veramente costa anche poco lo trovate sul macchilaia oppure ping panda l'ho preso da ping panda oppure credo che sia anche i banchi dove vendono tipo da ovies o dove hanno i prodotti di make up revolution e poi questo qua veramente un amore puro folle cioè perché mi sono trovata bene l'ho quasi finito mi manca tanto così sono quasi alla fine ma me lo compro perché me lo ricompro anzi perché mi trovo molto molto bene e questo qua di catrice prime and fine por refining anti shine base quindi è un prime and fine base viso effetto pacisante veramente mi trovo bene mi sono trovata bene anche d'inverno con questo qua e questi sono prodotti in un po più economici poi se voglio qualcosa che sia un pochino diciamo più strong che mi duri ma veramente bene il il trucco uso questo qua di nix il shine killer che sapete e il primer non lo so per me va benissimo questo qua nero c'è anche uno bianco non l'ho mai provato però veramente questo qua mi fa durare del trucco tutto il santo giorno cioè se io mi metto sto primer mi dura parecchio un'altra cosa che faccio utilizzo spesso prima come primer questo spray che lo compra sempre da pink panda del brand love che l'ho scoperto una scoperta l'ho scoperto questo anno che si chiama perfetti cute 3 in 1 martin fix spray perché questo qua è un make a base mattifying long lasting questo è un prodotto che si dà sia prima che dopo il il trucco come base veramente aiuta cioè praticamente ti crea metti il primer oppure metti anche questo lo spruzzi e poi se mai ti puoi mettere anche il primer sinceramente certe volte quanto non ho tanta voglia di questi prodotti in crema mi spruzzo anche questo qua di essence ma non alla fine anche all'inizio prima di mettere tipo il fondo tinta questo qua di essence che veramente tanta gente magari dice vabbè un prodotto da banco che costa poco ma sinceramente fa di più che uno più costoso e poi ovvio non mi manca mai devo andare a prendere il famoso prep and prime di di mac questo qua sinceramente per me è mano di dio cioè questo so che lo metto sia all'inizio che alla fine non ho problematiche è un trucco mi si fissa al trucco ma è un spray un spray per come base ma anche dopo miracoloso ecco non c'è niente da dire ora fondotinta d'estate ragazzi io ho già detto non uso fondi liquidi al limite se ho un evento se ogni tanto si sente qualche cane sul fondale pazienza o la porta aperta qui porta finestra aperta non ci posso far niente io sinceramente i fondi liquidi le abbandono d'estate l'unici gli unici che mi possono magari tenere testa diciamo sono tre fondi che le ho nel cassetto non ve le faccio vedere tanto le già già le conoscete giusto che ve le elenco e da blower di estel order 1 1 di mac che lo comprai ora non mi ricordo come caspita si chiama va e poi il make up forever ultra hd credo che quelli tre sono i fondi liquidi che io riesco a utilizzarli in estate senza che mi creano pur una lucidità che se ne vanno via in giro che mi fa lucidare la pelle che che ne so mi crea altre cose stranamente ho fatto una prova di mischiare un po di fondo di double wear con quello di make up forever ultra hd e vi dico che ho ottenuto un fondo molto buono a parte che sappiamo tutte che la double wear ha una consistenza molto pesante molto carica o comprende copra copre qualsiasi cosa veramente io non ci credevo quando lo comprai tre anni fa è stata la prima volta che l'ho comprato ma perché ho avuto un evento che mi serviva un periodo come questo che adesso che fa caldo che era agosto ma faceva caldo lo stesso mi serviva per un matrimonio e ovviamente lì temperature alte ho detto come faccio io a truccare il tuo giorno c'è averci un trucco almeno per le foto per cose del genere e ho dovuto studiare veramente quello è stato l'unico fondo che mi ha fatto impazzire ho detto cavoli lo avevo messo la mattina e alla sera era intatto quando nel tardo pomeriggio mi sono struccata per rifare un trucco serale cioè perché matrimoni in romania parlo che il mio paese durano tutto il giorno tutta la notte ovvio mi serviva un trucco da sera struccandomi veramente non era andato è ovvio che ho utilizzato una cipria buona tutto quanto ok ma sinceramente io utilizzo il fondo tinta d'estate e quale vi ho fatto la tasta così credo che in tutti i miei video perché quale avete visti questo quadi si sceglie do questo credo che per me sarà sempre il fondo che lo amerò in assoluto adesso come adesso è leggermente un pochino scurino ma leggermente di come perché non ho preso il sole ma quando appena mi colorisco questo qua lo finirò questo anno ma in questo momento sto utilizzando 21 che lo comprai da una settimana che lo uso cioè le alterno ad esempio questo qua io devo andare da chi qua a vedere se ci si se si trova ancora e faceva parte della collezione gold waves power foundation spf 50 io ho il 01 fair è un fondotinta compatto utilizzo wet and dry quindi se può si può utilizzare sia da asciutto che da bagnato che caspita mi vola qui vabbè come al solito entra qualche cosa pur avendo tende non lo so si tratta di questi fondi compatti in polvere che veramente è esattamente la stessa cosa del si sceglie do solo che questo qua e chico costa un quarto di quanto costa sì 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 sceglie do ecco ce la posso fare perché colore si sceglie do viene su una quarantina di euro questo qua non so 12 14 non ho idea comunque ma è buono questo qua ha fatto già il buco si vede perché io ultimamente ma donna come sto condando ultimamente lo utilizzo ma la cosa che mi ha fatto impazzire che ha un fattore di protezione 50 cioè con 50 di protezione su un fondo sei molto protetto ciò vuol dire che ti ci mette ancora un una crema che ti protegge e non hai quella problematica di macchie solare ed è questo qua che ce l'ho indosso perché mi piacciono questi lo sapete non si usa più la cipria io sicuramente neanche i correttori perché mi copre quasi tutto non mi serve neanche più il correttore e poi mi ricordai che una volta avevo comprato il max factor però per un tempo era sparito non lo avevo più visto al banco di max factor è questo qui scusate se vi acerco ragazze questo qua e face finiti compact foundation con spf 20 a un fattore di protezione un po più basso dell'altro quindi ne parliamo di 30 differenza quindi però solo fa io 0 35 per beige questo è un fondo che dura tutto il giorno è veramente dura tutto il giorno vi faccio vedere cosa c'è scritto è anche per ma diciamo che è un fondo che resiste molto al sudore cioè veramente non si vede vi giuro l'ho messo a prova anzi è usato perché non so neanche come tenerlo per non accecarvi si è dotato anche di una spugnetta la mia è pulita perché non l'ho utilizzato vi faccio vedere questa è la cialda ho preso un colore un po più chiaro perché per la tipologia di colore della pelle che ho in questo momento però ovviamente se vi interessa trovate anche i colori un po più scuri cioè a tutte le colorazioni lo applico non con la spugnetta perché lo applico sull'asciutto con questo pennello che adesso sia un po certo perché l'ho utilizzato che è di sephora professional che è il numero 45 mineral il powder è un pennello per le polveri minerali vi ho già parlato di questo pennello vi ho detto andate a sephora prendetelo perché è molto buono è possibile che avrebbe avrà cambiato un po il pack cioè il manico cose del genere però se andate alla commessa e lì chiedete vorrei il pennello della sephora della collezione di pennelli sephora professional numero 45 quello per le polveri minerale vedete che la commessa di sicuro saprà darvelo quindi io con questi mi faccio lavoro ragazzi perché altrimenti non c'è verso non esiste io d'estate non riesco a mettere altri altri prodotti cioè io prodotti praticamente liquidi di fondo gli abbandono non non si può non me ne frega niente se ho qualche macchia qualche imperfezione che si vede scusate ma devo bene perché qua si scioglie ma vi dico che con questi qua io riesco a farmi il lavoro è possibile che certe volte quando le giornate sono un pochino non troppo umide perché qua genova l'umidità è pazzesca di utilizzare le bb cream vi faccio vedere questo quadri proprio che mi piace tantissimo la sublim ma ha un fattore di protezione 10 la cosa bella è che nickel test e vegana è un diciamo una bb cream che a me mi va benissimo e utilizzo lei magari così per dare un minimo di definizione al viso ma di estate sugli occhi sulla palpebra entriamo molto adesso in discorso che cosa uso utilizzo molto questi ombretti in crema di sefora che sono buonissimi se li trovate ancora è possibile davverci anche qui mi riparto altri pack perché io le comprai quando so che la linea si rinnovava ma veramente sono buoni sono waterproof sono prodotti che tengono sei 15 ore veramente fanno il loro lavoro non costavano neanche tanto sinceramente quando le avevo presi io le avevo comprati parecchi colori in saldo perché c'era il saldo ad esempio sono buoni anche questi qua se li avete in casa color tattoo di maybelline questi qua io ce l'ho un paio di colori li uso perché durano ma durano qua 24 ore veramente non li togli la cosa bella è che non mi non mi va via il make up non si sposta mi ripeto è possibile che metto questo e sopra ci tampono magari presso qualche prodotto in polvere ma non ci metto mai direttamente il prodotto in polvere tipo prendo dalla cialda di una palette come faccio di solito metto la base poi già metto il primer occhi e poi metto subito l'ombretto non non ci riesco perché fa caldo e poi si suda e l'ombretto si sposta ma mettendo una base waterproof e poi mettendo sopra un ombretto dello stesso colore o più chiaro come volete voi riuscite a avere quel trucco e tenerlo per quanto desiderate tutto il giorno o non lo so quanto volete voi come prodotti in crema sono buoni anche questi dalla pupa va ancora non lo so se ci sono ancora se si trovano ancora ma veramente io anche con questi qua mi faccio il lavoro d'estate per me sono una mamma diciamo che una cosa buonissima perché e poi chiaramente abbiamo questi qua della nyx lingerie questi ombretti che sono anche questi a lunga durata si fissano bene non vanno via si lavora molto bene sopra di loro il prodotto poi qualcosa che è buona sono anche questi qua di nabla della collezione ora mi ricordo io ho solo un colore perché non so più riuscite io non li ho più visti questi sono spariti veramente anche questi qua sono buoni rimetti e poi sopra ci tamponi qualche altro prodotto e se no la cosa che mi aiuta come ho creato anche oggi il trucco sono le matite queste qua di kiko che veramente sono la cosa cioè diciamo il la spesa che l'ho fatta più buona nella mia vita nel senso che ho preso un bel po di colori e vi giuro che tutto l'estate mi faccio il make up con questi qua mamma mia ok sto cercando di acchiappare e di sistemare allora partiamo con questi qua che sono i classici che fanno parte della linea classica io qui non ho tanti colori perché 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 ho avuti tantissimi tipo verde celeste che ne so viola ma poi a un certo punto li ho accantonati non li ho più utilizzate adesso le ho riscoperti le sto utilizzando di nuovo perché vedi caso non lo so ho questo marrone che è molto carino che il numero 4 ad esempio vedete questo qua come faccio lo metto su tutta la palpebra eventualmente con il polpastrello del dito riesco un pochino a fissarlo o se non lo posso fissare anche con una con un pennello ma è meglio e subito dopo cioè faccio occhio per occhio cioè nel senso non metto su entrambi occhi e poi passo subito al alla polvere all'ombretto in polvere l'ho messo su questo occhio ci lavoro subito su questo occhio e subito dopo ci vado a pressare un ombretto in polvere del colore che desidero ma ovvio se oggi ho utilizzato questo pescato ho messo un pescato e poi c'ho questi qua ad esempio qui mi sa che ne ho due ho messo un pochino